Ancora scintille tra l'assessore comunale alla cultura di Milano Boeri e i suoi colleghi di giunta. Secondo Boeri non c'è stato alcun incremento di spesa per il suo assessorato, anzi semmai una contrazione di un milione di euro che conferma Milano come fanalido di coda tra i grandi comuni italiani per la cultura. Così l'assessore Boeri ha fatto il quadro del settore alla Commissione Bilancio, smettendo i dati distribuiti nei giorni scorsi che gli assegnavano un aumento di spesa di circa 7 milioni di euro. Il sindaco di Mantova, Nicola Sodano, ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private del territorio comunale fino al 9 giugno. In pratica viene dichiarata la conclusione anticipata a Mantova dell'anno scolastico a causa delle continue scosse di terremoto. Il pubblico ministero di Milano Basilone ha chiesto il rinvio a giudizio per Giovanni Merlino, titolare dell'Eureco, società di smaltimento dei rifiuti di Paderno Dugnano, dove il 5 novembre del 2010 morirono quattro operai e altri tre rimasero ustionati in seguito a un'esplosione avvenuta nella fabbrica. Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio colposo plurimo aggravato dal numero delle vittime e dalla violazione delle normative sulla sicurezza, lesioni colpose e incendio colposo. Vanno ai domiciliari il capitano della Lazio Stefano Mauri e il giocatore del Padova ex Genoa Omar Milanetto. Lo ha deciso il GIP di Cremona Guido Salvini. Secondo Salvini sul derby Genoa Sampdoria, pur non oggetto di contestazione, sul ruolo in tale contesto di Milanetto e di altri giocatori si sono allungate pesanti ombre. Un ragazzo cinese di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di violentare una connazionale di 20 anni. I due si erano conosciuti durante una serata in discoteca in un locale di via Carlo Farini. L'aggressore si era offerto di accompagnare la giovane a casa in via Collecchio. Qui intorno alle tre si sarebbe consumato il tentativo di violenza. Dal prossimo weekend il bike sharing sarà disponibile nei fine settimana 24 ore su 24. L'esperimento continuerà fino al 5 di agosto. Per tutto il mese di giugno e per quello di luglio, negli altri giorni della settimana, l'orario di Bike Me si allungherà fino alle 2. Resta il problema degli atti vandalici. Ogni giorno 100 bici finiscono in officina. Il campionato di Serie A 2012-2013 avrà inizio nel fine settimana del 26 agosto e si concluderà il 19 maggio 2013 tre i turni infrasettimanali, mercoledì 26 settembre, mercoledì 31 ottobre e mercoledì 8 maggio 2013. Oltre alla sosta natalizia, domenica 30 dicembre, si riprende domenica 6 gennaio, sono previste tre soste per gli impegni delle nazionali, domenica 9 settembre, domenica 14 ottobre e domenica 24 marzo. In attesa che si decida se farla disputare in Italia o in Cina, al momento la Supercoppa italiana tra Juve e Napoli è prevista per domenica 19 agosto. Red Hot Chili Peppers, The Prodigy and The Cure saranno le tre band che si esibiranno il 5, 6, 7 luglio all'Eineken Jamming Festival. I concerti si terranno nella nuova location di Fiera Milano Live a Ropero. Il programma è arricchito da numerosi altri artisti che completano il cast.